eccoci qua sarebbe troppo facile veramente troppo facile dire che bello siamo primi da soli in classifica no non mi interessa la classifica non mi interessa non la guardo io una cosa chiedo se sto sognando se sto sognando datemi un pizzicotto e svegliatevi e svegliatemi perché dopo aver visto uno brobrio negli ultimi tre anni io e due partite che vedo una squadra di calcio che gioca a calcio che ha idee movimenti senza palla giocatori che pressano recupero il pallone sul portatore di palla avversario scambi di posizione mantenimento del possesso quando c'è da mantenere il possesso zero rischi stiamo parlando di una squadra che ha dato tre gol al napoli e quindi non facciamo i furbi perché dopo la giornata i giornalisti interisti milanisti di tutti tutti questi giornalisti faziosi che si spacciano per i giornalisti obiettivi ma il como è poca cosa a parte che il como oggi è andato a pareggiare a cagliari per cui non è certo facile pareggiare a cagliari e soprattutto il verona aveva rifiato tre pappine al napoli noi gli abbiamo dato tre pappine è vero che non c'è la proprietà transitiva che se la juventus vince a 3 a 0 con il verona e il napoli perde a 3 a 0 con il verona noi vinciamo con il napoli assolutamente però è anche vero che il verona ha una squadra che è messa bene in campo da zanetti al quale faccio i complimenti ma c'è un discorso da fare che noi abbiamo in panchina abbiamo un signore che ha una visione di calcio una capacità di leggere le partite che è impressionante è mostruosa secondo voi secondo voi quando uno vede la formazione della juventus prima della partita e vede che fa giocare ancora un bangulà e dice vabbè lo premia perché la settimana scorsa ha fatto un bel gol e ha giocato bene ma mette in campo savona tenendo in panchina calulu nuovo acquisto e tenendo in panchina quello che è stato fino all'altro giorno il capitano danilo che per me ve l'ho detto deve essere riserva fissa perché anche questa sera entrato in campo a momenti fa perdere un pallone a bremer che è stato come sempre un muro un muro o come ha detto giustamente pardo gliela prendo a prestito è il ministro della difesa è veramente una cosa mostruosa bremer meno male che ce l'abbiamo ancora noi e ce l'abbiamo noi insomma non è che ci vuole molta fantasia per fare questa analisi io direi a tutti gli allegriani di prepararsi fare fagotto perché se veramente fra un paio di settimane tre settimane e già andano a fonseca probabilmente il milan siccome ha problemi in difesa andrà a prendere allegri ecco allora vi do un consiglio siccome voi non siete tifosi della juventus incominciate a attifare il milan preparatevi mentalmente psicologicamente a attifare il milan se invece non dovessero cambiare fonseca e allegri non dovesse andare al milan andate al gabbione state con lui perché di calcio capite meno di lui perché signori c'è una differenza abissale questa sera non c'era nico gonzalez non c'era consensavo non c'era copmainers caluro l'ha messo in fondo c'è di nuovi non c'era douglas luiz che l'ha messo dopo ha giocato con locatelli con fagioli un centrocampo che quando l'anno scorso lo metteva in campo allegri c'era da mettersene mani ai capelli invece questa sera hanno giocato bene tutti e due hanno giocato bene tutti e due locatelli si sa che fa degli errori a volte anche un po diciamo per eccesso di confidenza col pallone ma ha giocato bene come la settimana scorsa ribadisco lucatelli non è un campione il momento in cui torna to run nel momento in cui douglas luiz trasmette di fare colpi di tacco perché secondo me per quello che ti avevo molto non lo fa giocare ma avete visto che piedi che ha e momenti in cui dovesse arrivare uso sempre condizionale ma pare fatta coppainers io credo che ci sarà a parte che tiago motta non ha problemi perché adesso ha messo anche lui anche lei in rosa se gli sono piaciuti se gli piacciono durante gli elementi di far giocare insomma manca mezza squadra poi si arriva sancio ragazzi tanta roba manca mezza squadra ancora era una partita delicata perché andavamo contro una squadra che aveva vinto 3-0 con il napoli avevamo i fari puntati su da parte di tutta la stampa adesso andremo a vedere cosa fa la juventus risultato è che dopo due partite la juventus ha fatto sei gol e ne ha presi zero di Gregorio secondo me dà molta sicurezza alla difesa perché sui palloni alti li prende tutti lui sono tutti suoi non sta lì a cincischiare ricorderete che io mi seguo da qualche tempo che io criticavo scelsi perché sulle palle vaganti lui era indeciso titubante spesso si arrivava in ritardo e dava il baggero il pugno e la palla spesso andava a finire nei piedi degli avversari e ci investigavano oppure creavano azioni pericolose di Gregorio bello come il sole e mi ricorda veramente perruzzi ve lo dico io che ho avuto modo di vedere tante volte le uvi di perruzzi anche allo stadio vi dico che a me questo portiere mi ricorda perruzzi e se il buongiorno si vede al mattino perruzzi ha vinto la champions league grossiamo le dita a parte questa cosa questa amar corde così di cinghiedone perruzzi signori la juve gioca calcio non eravamo abituati io non ero abituato ero era curioso e adesso finalmente giochiamo contro una squadra potenzialmente tecniche forte quindi non credo che la roma con i vari sulle dovvich pellegrini paredes saulè verrà torino a chiudersi non credo anche se a un punto dopo due partite quindi magari sarà un po accorta però voglio proprio vedere cosa farà la juve come stanno alla roma e come giocheremo perché se noi vinciamo bene anche con la roma perché abbiamo vinto bene con il comodo abbiamo vinto bene col verona se vinciamo anche bene e non di corto muso di corto culo come facevamo gli anni scorsi allora cominciamo a fare dei ragionamenti interessanti perché la rosa nel frattempo sarà stata rimpinguata in calcio mercato deo grazie finalmente sarà terminato per cui avremo una juventus che potrà come ho sempre detto dire la sua adesso attendiamo i prossimi prossimo innesti perché non sappiamo se arriveranno entrambi ovvero copp e sancio se arriveranno entrambi la juventus non può più nascondersi va detto gioca bene ha un grande tecnico i giocatori ce li ha deve lottare con lo scudetto poi non lo vincerà ma deve lottare con lo scudetto non so con chi tutti dicono l'inter attenzione perché il napoli con conte è pericolosa se conte prende la quadra dopo diventa pericoloso non ha le coppe ha una settimana di tempo per fare tabula rasa nel cervello dei giocatori inculcargli le sue idee per cui non fatevi ingannare dalla sconfitta della giornata sicuramente adesso il napoli già domenica vedremo una bella partita perché napoli parma parma gioca benissimo vedremo una bella partita e ce ne saranno tante intra l'atalanta vedremo se l'atalanta che quel non dico che cosa di sabatini la dà per favorita sabatini sarebbe ora che la smettesse di criticare la juve e si facesse una padellata di cazzi suoi mi dispiace caro sabatini il buon allegri mettito in giardino se sei innamorato se ti piace o sei un debole per lui abbiamo un allenatore vero adesso abbiamo un allenatore vero poi magari non vincerà ma è uno che fa vedere del bel calcio e io francamente sono contento perché non ne potevo più di mettermi davanti alla telecamera e dire cose negative della squadra che io amo con tutto me stesso la vecchia signora ha vinto ancora forza juve per chi vuole ci sono le pagelle buonanotte